Mi chiamo Analia Pierini, sono nata in Argentina e vivo qui in Italia da 20 anni. Ho avuto un po' la idea e la voglia di venire a vivere in Europa perché è più facile viaggiare, che è la mia passione. 13 anni fa mi sono ammalata di sclerosi multipla e uno dei miei sogni comunque che ho da piccola e proprio per il fatto che mi piace viaggiare era fare il giro del mondo. E a un certo punto ho creduto che il sogno era finito, che non avrei mai più potuto farlo. Invece ho appena realizzato il sogno della mia vita. Sono partita il 12 ottobre, ho viaggiato per un mese e mezzo e dopo Mosca sono andata a Bangkok, Pechino, Tokyo, Sydney, Auckland, le isole Fiji, Los Angeles, New York e Milano. Se devo sintetizzare questo viaggio è stato amore. Grazie a tutti i nostri amici.